illustriamo adesso brevemente la sezione tech to speech ecco da qui è possibile interagire col motore di sintesi vocale dovete sapere che la mia app utilizza il motore di sintesi vocale che è installato sul vostro telefono quindi non è la mia app che parla e non date la colpa la mia app se le vocalizzazioni sono pessime è sicuramente colpa del vostro motore sintesi vocale per esempio picco tts è tutt'altro che un buon motore sintesi vocale nella fattispecie io consiglio di usare sempre google sintesi vocale ma di questo parleremo dopo allora la sezione tech to speech inizia ovviamente con la lingua che è stata preimpostata nella maggior parte dei casi dovrebbe andare tutto bene dovreste avere un motore sintesi vocale con la vostra lingua già installato sul vostro telefono se così non è usciranno degli errori piuttosto gravi in genere una schermata qui in alto su sfondo giallo che dirà che il vostro motore sintesi vocale non è corretto di installarne uno che funzioni correttamente ecco se tutto va bene verrà attivata di default la lingua impostata sul vostro telefono quindi nel mio caso ovviamente l'italiano è possibile cambiarla chiaramente per esempio divertiamoci adesso mettiamo giapponese e facciamo dire ok meglio tornare assolutamente all'italiano ok solo per divertirsi un attimo ecco impostazioni tech to speech impostazioni tech to speech da qui si punterà alla pagina android dove è possibile impostare il motore di sintesi vocale ecco vedete io ho il motore di sintesi vocale google che vi consiglio anche se è un voice abbastanza buono poi ve ne sono a pagamento che sono ottimi ma chiaramente io vi dico il motore di sintesi vocale è gratuito uno dei migliori sicuramente il motore di sintesi vocale google ecco da qui potete anche impostare la velocità vocale il tono questo è un esempio di sintesi vocale in italiano quindi per esempio questo è un esempio di sintesi vocale in italiano questo è un esempio di sintesi vocale in italiano ecco chiaramente vi invito a questo è un esempio di sintesi vocale in italiano questo è un esempio di sintesi vocale in italiano noi ecco è possibile anche forzare il motore di sintesi vocale per questo perché sui giorni sistemi operativi viene spesso perso il sistema ovviamente per fortuna su pochi viene spesso perso il riferimento e allora da qui è possibile forzarlo in ogni caso ci sono certi telefoni cinesi che passano in cinese da un momento all'altro senza possibilità di recupero se spegnendo e riaccendendo ve lo dico perché è successo vocalizza in minuscolo è di nuovo interessante infatti l'ho attivata siccome certi motori di sintesi vocale e anche google lo fa quando incontra delle parole tutte in maiuscolo tende a farne lo spelling decisamente fastidioso allora la mia app a questo punto converte prima il testo in minuscolo e lo fa riprodurre il motore di sintesi vocale in minuscolo quindi si evitano queste problematiche ok